ciao ragazze la mia intenzione di oggi è quella di spiegarvi la nostra all'uncina deve partire con 8 catenelle che lavoreremo poi circolare quindi partiamo 8 catenelle una 2 3 4 5 6 7 8 che chiuderemo nella prima maglia nella prima catenella chiudiamo saliamo di 3 catenelle una due tre e lavoreremo il nostro primo giro 32 maglie contando comunque le prime tre catenelle quindi questa è la prima ne andremo a lavorare altre 31 maglie alte quindi una 2 3 4 5 6 ok e continuate per tutto il giro calcolate che dovranno essere 32 maglie ok concluso il nostro primo giro questo sarà il nostro risultato quindi chiudiamo maglia bassissima nelle prime catenelle che abbiamo lavorato e saliamo il nostro secondo giro il nostro secondo giro partiamo sempre 3 catenelle 1 2 3 e lavoreremo per ogni maglia doppia maglia alta quindi una e 2 quindi quindi negli spazi delle maglie che abbiamo lavorato al primo giro andremo inserire la doppia cioè 2 maglie alte 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 7 8 8 9 9 10 9 10 11 11 11 11 11 11 quella singola 1 e 2 poi la meglia singola 1 e 2 questo lavoro fino al punto che ci siamo frissati ok abbiamo lavorato il nostro diciamo mezzo giro con la maglia sempre lavorando con la maglia alta dal segno che abbiamo creato andremo a fare spazio quindi lavoreremo già creando il nostro disegno lasciamo catenella e poi creiamo la nostra maglia alta catenella maglia alta catenella e la nostra maglia alta catenella e maglia alta le maglie giù le lavoriamo per quelle che sono quindi continuiamo il nostro lavoro ma iniziamo a lasciare lo spazio del nostro disegno della nostra carrozzina quindi mi ha lasciato già una catenella e maglia così fino alla fine del nostro giro ed eccoci arrivati alla fine del nostro terzo giro naturalmente se sentite tranquille potete scacciare i vostri punti di riferimento qui infatti già stava andando per i fatti suoi io li lascio per una questione di praticità quindi arrivati alla fine che lasciate la vostra catenella ripartiamo tre catenelle e iniziamo a fare il lavoro due singole e due lavorate due insieme quindi una e due e poi due nella stessa maglia una e due singola singola doppia una e due singola singola e doppia singola singola e doppia così perfino al punto che abbiamo comunque mantenuto il segno in precedenza ok siamo arrivati in direzione quindi ci mancano ci manca la nostra doppia 6 non bisogna sbagliarmi ok quindi una e due singola singola cerchiamo cerchiamo di dargli già 3 catenelle e una singola e una singola e 1 2 2 e 1 e 1 così fino alla fine dove sei del nostro giro quindi arrivati alla fine del nostro giro chiudiamo saliamo di 3 catenelle e lavoriamo ogni singola maglia quindi invece di andare alti ad allargare andiamo a stringere quindi ritorniamo a fare una maglia per ogni maglia che abbiamo lavorato fino ad oggi questo lavoro naturalmente sempre fino al giro inizia a farsi largo il lavoro quindi inizia vediamo se così quindi maglia singola fino alla nostra comunque metà interessata iniziamo comunque in questo caso se mi piace lavorare con la lana in questo caso siamo costretti ad andare a stringere quindi ritorniamo invece di fare più maglie lavoriamo quelle che ci sono e ritorniamo con una in modo da dare l'effetto comunque effettivo della nostra pulletta quindi maglia singola per tutta la nostra metà desiderata col filo invece più fino su questo giro ho effettuato un aumento quindi in questo caso se usate il filo se usate questo tipo di filo su questo giro andrete ad aumentare le maglie singole quindi invece di fare due singole e due unite andrete a fare tre singole e tre unite se lavorate col filo sottile che sia chiaro se lavorate sul filo sottile dovete lavorare per uscire comunque uscire questo effetto qua il quinto il quinto giro il nostro quarto giro dovrà essere ora sto andando in panico allora abbiamo fatto primo secondo terzo quarto ok questo è il nostro quinto giro e si dovrebbe lavorare tre maglie singole e due chiuse io in questo caso visto che la lana alla fine mi sembra di lavorare comunque un cerchio a me serve l'effetto opposto sono costretta a effettuare in questo caso diciamo una diminuzione quindi invece di aumentare i miei giri e le mie maglie vado comunque a lavorare le stesse così dicevo per tutta la nostra metà ok perfettissimo ragazze siamo arrivati alla fine si può dire del nostro del nostro lavoro principale quindi l'ultima maglia singola ok e la nostra metà con le maglie singole le abbiamo fatte ora partiamo quindi sono questa era la penultima l'ultima ecco qui è l'ultima che corrisponde se riesco a prendere il filo come si deve ok ora fatta l'ultima maglia andremo ad aumentare invece i punti di spazio del nostro disegno quindi tre catenelle una due tre è una maglia che faremo coincidere sopra la maglia lavorata in precedenza quindi cerco di andare piano una due tre e il lavoro la maglia che abbiamo fatto in precedenza a me piace il lavoro all'interno della catenella quindi ecco qua 1 2 e 3 1 2 3 e vedete la sono proprio una distratta ok eccola qua 1 2 3 e si continua così continuiamo così fino alla nostra metà interessata siamo 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 arrivati alla fine del nostro lavoro allora tenete presente che ci sono quindi due maglie dal nostro iniziamo a chiudere il nostro laterale quindi partiamo da qua cioè dalla nostra metà dove abbiamo iniziato a fare le maglie alte e chiudiamo il lavoro con una maglia bassa quindi arriviamo fino alla punta del nostro lavoro e poi ritorniamo indietro lavorando sempre se volete con la maglia bassa oppure potete iniziare a creare del lasciare 3 3 catenelle e chiuderla faremo comunque delle dimostrazioni di come potete comunque ritornare indietro col lavoro intanto abbellire il vostro e andando abbellirlo senza essere ripetitiva quindi ecco qua così fino alla punta arrivato alla fine giriamo il lavoro 1 2 3 catenelle e chiudiamo 1 2 3 catenelle e chiudiamo perfetto arrivati alla fine ecco qua io chiudo con una maglia bassa mi alzo di 3 catenelle 1 2 3 e inizio a crearmi ad unirmi i miei due lati del sopra 3 4 e 5 e maglia alta 1 2 maglia alta 1 2 e maglia alta fino alla fine del nostro lavoro eccoci arrivati alla fine 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 del nostro lavoro in questo caso chiudo tra le due maglie ecco qua ora 1 2 3 4 5 6 7 e 8 sono alzata di 8 catenelle e chiudo nella maglia che abbiamo creato inizialmente precedenza quindi e faccio la mia chiusura ok la parte più lunga del nostro lavoro si può dire l'abbiamo conclusa quindi poi questo qui per un lavoro più pulito ecco qua ora aggacciamo qualche pulito in più ok cosa ci manca io mi sono già remunita e ne ho già fatte spiego come creare la rotellina e il nostro e la nostra carrozzina è quasi pronta questa è la terza partiamo allora sempre 8 catenelle chiudiamo sempre circolare saliamo di 2 catenelle in questo caso 1 e 2 e lavoriamo con la maglia con la maglia normale lavoriamo 16 maglie quindi e chiudiamo e chiudiamo 16 maglie 17 con le 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio quindi siamo quindi siamo 3 4 5 5 6 7 e così fino a 16 arrivati 16 chiudete salite di 3 catenelle 1 2 3 aggiungete una quarta catenella che farà da catenella di spaziatura e iniziate a lavorare con la maglia alta per ogni spazio lasciato nel lavoro precedente una maglia alta una catenella spazio una maglia alta e una catenella una maglia alta e una catenella una maglia alta e una catenella così per tutto il nostro giro perfetto chiudiamo arrivato a questo punto allora sperate un attimo che ho dimenticato la catenella di spazio che è testa ok a questo punto alzo di una catenella e lavoro due maglie basse per ogni catenella di spazio che ho lasciato per ogni catenella che ho lasciato è stato così tutto il nostro giro chiudiamo quindi siamo arrivati alla conclusione tagliate il vostro filo infilatelo fate una sorta di incastro all'interno del lavoro che avete creato in modo da nascondere il filo in eccesso magari tagliate quello che effettivamente non serve più e il lavoro lo abbiamo concluso così siamo arrivati alla conclusione poi starà a voi decidere come effettivamente finirlo ho unito di decorare di lavorare io e il mio quello piccolino ho utilizzato le bottoni e ho unito le quattro ruote le quattro ruotelline con i bottoni poi semplicemente ho utilizzato un nastrino per dare un tocco di colore ancora in più la carrozzina la carrozzina qua in questo caso ora ho fatto una cosa veloce anche perché la batteria sono veloce la batteria che comunque mi sta lasciando a piedi inizia a fare e sta per scaricarsi quindi ho attaccato semplicemente ora con degli spilli per farvele vedere tutto unito andiamo in davanti il lavoro l'abbiamo finito poi ripeto sta a voi come desiderate finirlo di diciamo chintare addobbare il vostro lavoro va bene ragazzi il mio tutorial finisce qui il lavoro è talmente grande che non entra nell'obiettivo anche perché ho un treppiedi piccolino quindi mi accontento di quello che ho ecco qua diciamo questi sono il dietro eh questi andrebbero sotto ok con la mia carrozzina versione gigante e la mia carrozzina piccolina vi salutiamo e al prossimo tutorial ciao